Sime Vrissalco è il nuovo nome per la fascia destra della Juventus Salve a tutti ragazzi, sono Matti di P10 Se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale E ovviamente se vi va cliccate la campanellina delle notifiche accanto al mio nome E seguite i miei link social Soprattutto sul profilo Instagram che uso particolarmente anche per parlare con molti di voi Dobbiamo parlare di una situazione che mi appassiona particolarmente Perché la Juve quest'estate avrà un vero e proprio restyling sulle fasce Cioè perché? Perché al 90% Lichstein e Asamoah lasceranno la società bianconera Probabilmente Alexandro non si sa che cosa farà Quindi c'è il dubbio che possa andare via Uno dei nomi che la Juventus sta assornando è quello di Mattia Darmian Che comunque ci ho fatto già un video altre volte Un altro nome che invece la Juve sta assornando di cui voglio parlare oggi È quello di Sime Vrissalco Allora Vrissalco è un terzino destro che ha giocato anche a sinistra in alcune fasi della sua carriera E che si è formato nella Dinamo Zagabria Nella Dinamo Zagabria ha vinto anche abbastanza trofei per poi passare al Sassuolo in Italia Al Sassuolo ha fatto benino, ha fatto così bene che c'è stata la chiamata dell'Atletico Madrid Se non sbaglio sono un paio d'anni che è in liga e comunque si sta comportando molto bene Si è imposto come uno dei terzini più di successo dal punto di vista giovanile in questi ultimi anni Ricordiamo che è un ragazzo che ha 25-26 anni, quindi è proprio giovanissimo Ed è un ragazzo che ha ancora molti margini di miglioramento Quali sono dei suoi doti migliori? Ovviamente la corsa ha molta facilità di corsa ed è molto abile nella fase di passaggio Infatti è inusuale quasi che un terzino sia abile anche nella fase di passaggio Invece lui mi sembra molto accurato Oltre ad avere anche caratteristiche diverse Di quanto ad esempio è molto migliorato nella difesa da quando è arrivato in Italia È bravo nel cross insomma ed è bravo anche nel tiro da fuori Quindi è un profilo che la Juve sta consultando È un secondo profilo in realtà che la Juve dell'Atletico sta consultando Perché il primo è Ferreira-Garlasco Volevo sapere da voi che cosa ne pensavate Ovvero vi piace l'idea di Sialco per giugno Oppure avete altre idee? Idee? Mamma mia non riesco a parla oggi Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate E ovviamente non dimenticatevi se l'avete visto giocare o meno Sì